e questo nel basket viene definito garbage time sembra l'ultimo possesso di una partita NBA Capaci dice a Vogliacquot di tenere lì il pallone tasto stop Sè 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 per la corsa verso la serie a e stasera il benevento di fabio caserta ha risposto presente anzi super presente nella partita contro il como che era uno snodo di vitale importanza verso questo finale di stagione che si preannuncia tutto da vivere prima di andare a parlare della partita vinta dai nostri colori giallorossi per 5 a 0 sul como vi invito a lasciare un bel like iscrivervi al canale perché qui trovate tantissimi contenuti sul calcio serie a serie b cronache reaction storie calcistiche facciamo appunto le live dove andiamo ad esaminare la serie a la serie b portiamo le interviste facciamo ecco proprio una panoramica sul calcio a 360 gradi anche con delle storie appunto improntate su questo bellissimo sport quindi iscrivetevi tutti condividetelo con tutti i tifosi del benevento con tutti i tifosi del como con tutti gli appassionati di calcio che conoscete ed andiamo a fare questa panoramica per quanto riguarda benevento como terminata 5 a 0 allora ora qui ci sarà qualcuno che dice eh ma la partita è stata comunque subito incanalata perché il como era partito bene però poi c'è stata quella espulsione per doppia munizione del di quel giocatore del como che che ora non ricordo e poi tramite il calcio di rigore la partita si è incanalata si è sviluppata in quel modo certo certo è vero è vero che comunque in seguito appunto all'espulsione di solini ecco all'undicesimo minuto la partita ha preso una determinata piega ma questo è il calcio questo è il calcio ragazzi però io più che andare a chiaramente a fare poi come facciamo sempre un'analisi della partita mi voglio un attimino prendere uno spazio per dire delle per fare per dire delle considerazioni importanti per quanto riguarda questo benevento allora parto dal fatto che mi dispiace un po per la non partecipazione dei tifosi allo stadio ovvero io come sapete vivo in toscana quindi purtroppo ancora non sono mai stato al ciro vigorito ma ci vorrà andare ma mi dispiace un po per la non partecipazione ecco della gente appunto appunto magari della zona o che vive vicino benevento perché sarebbe bello avere più spinta ecco al ciro vigorito per quanto riguarda poi per supportare la nostra squadra altre considerazioni importanti da fare sono la presa di posizione del presidente che comunque è stato vicino alla squadra ha toccato le corde giuste per poter comunque ridare delle motivazioni ridare una spinta importante dopo la partita contro l'ascoli il ritiro è stato altrettanto di vitale importanza perché comunque ha permesso all'ambiente al gruppo squadra appunto di ricompattarsi anche il discorso di riproporre un lapadula all'interno appunto del gruppo come abbiamo già parlato lui si è scusato quindi ecco ha anche avuto modo di chiarire ha messo i propri sbagli questo è stato molto 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 importante tutti uniti tutti determinati verso un unico obiettivo il ritiro sicuramente è stato modo per è stato appunto un modo per parlarsi per confrontarsi per lavorare tanto sul quotidiano ma anche appunto per ricompattare spogliatoio squadra mister società e poi di conseguenza ambiente e tifosi e questo e questo si è visto perché oggi si trova la seconda vittoria consecutiva la vittoria che mancava praticamente in casa era dalla partita contro il monza e quindi ho visto oggi veramente tutto questo poi è normale che nella partita si è incanalata nei binari giusti ma questo è il calcio eravamo stati sfortunati nell'ultimo nell'ultimo mese e devo dire che un po la fortuna ci ha rigirato dalla nostra parte però detto questo comunque ho visto veramente una squadra che ha dato una ha avuto ecco una prestazione di continuità rispetto anche alle scorse settimane dove purtroppo ci mancava soltanto il risultato la partita sicuramente vinta al tombolato col cittadella è stato un input importante a livello mentale poi perché poi se non andiamo a ragionare a livello fisico comunque la squadra ha sempre tenuto abbastanza bene il campo non ho visto mai delle debacle importanti del benevento con appunto andare in difficoltà la squadra l'ho visto poco durante la stagione ecco poche poche volte ho visto questo oggi ho visto una squadra che ha risposto bene sul campo caserta ha preparato bene la partita e poi ripeto ribadisco l'episodio è stato a nostro favore dopo comunque l'inizio che c'era stato quella quella sbavatura su blanco che aveva comunque sfiorato il vantaggio però ho visto comunque una squadra reattiva una squadra sul pezzo una fase difensiva molto 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 ben fatta veramente anche glick lo rivedo in grande spolvero a sinistra vedo in crescita full on e questo è molto 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 importante a centrocampo è la differenza la fa a campora la fa a campora perché è un giocatore che si è caricato sulle spalle le redini del centrocampo del benevento imposta corre lotta smista è in grado anche di segnare ha un mancino veramente educato nei calci piazzati può dare una mano quindi ecco l'acquisto in più a centrocampo e l'uomo in più in questo momento si chiama sicuramente appunto gennaro a campora per il resto ho visto ecco veramente molto 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 bene anche la fase offensiva ho visto oggi un forte in crescita un forte che ha trovato i primi due gol con la maglia del benevento terzo gol stagionale dopo il gol che ha fatto con il venezia in serie a un forte che si è sbloccato ha lavorato per la squadra a corso ha sbottato ha provato anche a dialogare con i compagni veniva incontro cercava di dare comunque ecco quel fraseggio importante in fase offensiva e oggi poi la scena è proprio l'uomo partita sky del benevento l'uomo partita burchi è sicuramente robertino in signa trasforma anche lui il rigore trova un gol spettacolare da fuori aria con un mancino al volo quindi sicuramente anche qui un po troppo punzecchiato nell'ultimo periodo poi è normale che la discontinuità può far parte di un giocatore ecco se a lui gli manca quel qualcosina in più per diventare veramente un giocatore molto 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 importante per quanto riguarda sempre dei appunto dei palcoscenici da protagonista in serie b e poter poter far bene in serie a è la continuità a lui gli manca un po di continuità però erano state troppe le critiche verso proprio qualche singolo ma proprio in generale verso il benevento anche io compreso anche io compreso però se si va ad analizzare poi la situazione del tifoso proprio l'essere tifoso il tifoso è anche questo è comunque lui che giudica colui che parla colui che poi ama e supporta sempre la squadra quindi è giusto anche questo giusta la parola dei tifosi però ecco io esprimo sicuramente tanta tanta vicinanza alla squadra a caserta che sta facendo un buon lavoro perché se poi si va ad analizzare la situazione in maniera totale si vede che il benevento è comunque chiaramente in linea di massima con gli obiettivi che si erano appunto prefissati a inizio stagione quindi sicuramente bisogna ecco essere tante volte noi tifosi io compreso un pochino più diciamo su certi aspetti maturi nell'andare a criticare meno magari su certi in certi momenti che magari non sappiamo tutte le dinamiche che sono attorno alla squadra detto questo veramente ottimo ottimo benevento tre punti fondamentali che comunque ci permettono di accorciare dalle squadre che sono davanti in virtù anche degli altri risultati saranno molto 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 importanti le prossime settimane oggi c'è stato anche il rintegro e il ritorno in campo di la padula si è messo a disposizione per la squadra quindi molto molto bene anche il ritorno di Gianluca la padula per quanto riguarda un discorso di pagelli oggi mi sento di premiare caserta con un bel 7 perché comunque un allenatore che in serie b non ha tanta esperienza ma per me facendo una buona annata do un 6 a paleari per la partita per la continuità che sta avendo quindi sicuramente bene 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 letizia full on 6 e mezzo letizia oggi voglio premiare dam full on con un 7 perché per chi mi conosce sa quanto l'ho criticato glick vogliacco 6 e mezzo jonita 6 più in prota 6 e mezzo a campora 7 e mezzo forte 7 e mezzo teio tra il 6 e il 6 e mezzo comunque sulla fiducia in signe uomo partita benevento 8 e poi comunque subentrati dai diamo diamo oggi la sufficienza a tutti quanti comunque così possiamo sicuramente dare anche ecco un po' di di conforto alla nostra squadra e ai ragazzi visto anche le critiche che avevamo un po' fatto che ho fatto anche io nelle ultime settimane veramente molto molto bene molto bene anche il ritorno di la padula veramente sono molto 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 contento di tutta questa situazione siamo ritornati nei binari giusti siamo ritornati verso la dritta via che era quella che poi tutti volevamo sicuramente quindi bene 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 oggi manita 5 a 0 su un como che è comunque una squadra difficile da affrontare perché sta facendo una buona annata gattuso è un alleatore che sta lavorando bene sono una squadra propositiva sono una squadra che fanno un buon calcio quindi sicuramente gli auguro il meglio per il proseguimento della stagione però oggi era veramente fondamentale portare a casa questi tre punti per risvegliare un po' anche tanti aspetti positivi di cui abbiamo parlato nel video di cui abbiamo parlato nelle scorse settimane quindi molto 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 bene avanti così forza 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 strega e stai attento che se giochi contro il benevento la partita potrebbe essere un tormento giallorossi sia la nostra passione speriamo per sempre lo stregone e andiamo tantissimi like almeno 100 sotto al video per supportare il canale di burchi iscrivetevi tutti con campanellina attiva condividetelo dappertutto e come dico sempre shabalala a tutti sempre sempre forza strega sì